Sono 152 i posti di personale ATA tra impiegati e bidelli che devono essere ricoperti nella sola provincia di Teramo per la riapertura delle scuole. Numeri significativi che mettono in evidenza un sistema di reclutamento che non copre le disponibilità, visto che quasi un terzo delle scuole terramane non ha un direttore dei servizi generali e amministrativi. Una situazione questa denunciata dalla FLC CGL di Teramo che per il sindacato rischia di aggravare ancora di più la già difficile condizione legata alla carezza di personale all'interno delle scuole. Di questi 152 posti disponibili rientrano delle figure estremamente importanti, come ad esempio la figura del DSGA, che è la figura che fa sì che da un punto di vista amministrativo la scuola possa funzionare. Ovviamente viene da sé pensare che ci saranno delle scuole che inizieranno l'anno scolastico senza una figura così importante, il che creerebbe ovviamente dei problemi. Certo le scuole poi si organizzeranno e troveranno delle soluzioni tampone, però comunque sono sempre delle soluzioni approssimative. Per la FLC CGL dunque occorre rapidamente assumere a tempo indeterminato le figure professionali di cui necessitano le scuole. Sono anche altre le figure molto importanti che mancano nelle scuole, ad esempio gli assistenti amministrativi. Consideriamo la mole di lavoro che le segreterie hanno, sono quasi diventate dei mini provveditorati, quindi il lavoro è sempre più complesso e più articolato, però mancano queste figure così importanti che fanno sì che le scuole possano funzionare. Ovviamente noi della CGL ribadiamo l'importanza di investire sugli organici stabili per consentire ovviamente alle scuole di programmare il lavoro, la propria offerta formativa, affinché possano effettivamente funzionare a pieno regime. Ribadiamo con forza che bisogna investire nella scuola pubblica per avere una istruzione di qualità.